Si a prenderle a stagni e andando a Baugiano e poi si passa a Barella a prenderle l'acqua. Allora nacchere osso, la volta che mi ricordo ancora se era super samba rotto se andavo a prenderle il freschino. C'era freschino, capito? C'erano anche le zanzare. La sera ci si va a volte d'estate a prenderle il frescolino, capito? A prenderle il ghiaccino, c'è quell'aria buona, capito? Allora ragazzi, che si fa in DSA, eh? Allora te non viene a dire che se trombavo per due giorni a seguito, è una canzoncina che l'avevo scritta. E gli è ganso però e ti volevo raccontare via la orta e sto andando a prenderle l'acqua a Barello. E io non ho portato poi le tane perché me ne ero scorda a casa. E allora a un certo punto gli fò io, ragazzi mi è presa fame, voglio tornare a mangiare un panino con il lampadietto. Un panino salsa verde piccantino, ho saputo? E poi dopo se mi ha... e prendo anche... Un panino con la porchetta. Allora ragazzi, il sugo deve cocere parecchio, se no è il sugo. Io lo faccio cocere sempre dalle tre alle quattro ore, capito? A volte ci metto anche due giorni per fare un sugo. Poi si fa un bel soffritto, diciamo, di cifolla, carota e uno spicchettino d'aglio. È molto importante mettere anche il chiodino di carofalo. Assaggiate sempre il sale, se manca di sale, via via. E questo è tutto per fare il sugo, un buon sugo. Ricordatevi dei cosci parecchio, parecchio. Io sono venuto a parlare di questa cosa, che è una differenza pazzesca fra Baugiano e la differenza fra Bacarello, che la gente si confonde. E questa è una cosa pazzesca, ad esempio. Confondere un posto per un altro, ho visto la fontana di Bacarello con Baugiano. È un errore molto grave come scambiare per Ato con Pistoia, faccio un esempio. Bua Ioli, allora sento una cosa. Nello spaghettino allo scoglio, se tu ci metti il pomodorino, tu gli vai a sciupare il sapore, tu gli levi il sapore, diciamo, alla mongola, alla cozza. Se tu lo fai, in bianco ti viene più buono, da me retta, ti da un consiglio. Avete? Perché se tu ci metti il pomodoro, tu gli vai a levare il sapore, il profumo di mare. Io la faccio così, per dire... Io la faccio così, a modo mio, poi ognuno la fa come gli pare. Ma secondo me, in bianco è più buona. Poi lo faccio vedere come... L'ho messo il coso della ossa. Mi ricordo, quando gli ho messo l'affare, l'avevo perso, l'avevo perso. Ora mi ricordo, ho detto, se glielo stavo da crefarti, l'avevo perso il fumo, ossa. Mi ritrovo il fumo, ossa, pure l'avevo messo da qualche parte, ossa. C'avevi il tubo, l'ho perso, come si è rotto, ossa, mi lasco a terra. E c'avevo due grammi di charas, ossa, di charas, ossa. Due grammi di charas, ossa, ho perso, ossa. Ho guardato il rubato, non ho affrattato, non ho bruscavo. All'istruzione arti.